Sono passati solo sette giorni dal terribile incidente stradale in cui è stato coinvolto un ungulato e che ha costato la vita al 35enne Manuel Favaro e la cronaca ha rischiato di ripetersi nuovamente questa mattina. Attorno alle 8, infatti, nel tratto della strada provinciale 2 che collega la frazione di Oregni alla statale 50 in comune di Sospirolo nel Bellunese, un cervo è spuntato all'improvviso dal ciglio della strada speronando un SUV che stava transitando con a bordo padre e figlia. La vettura è quindi uscita pericolosamente di strada ed è finita sull'adiacente campo agricolo, per fortuna senza conseguenze gravi per chi era a bordo, mentre il cervo è deceduto. La bambina, visibilmente sotto shock, è stata trasportata dai tecnici del SUEM all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre per accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'autovettura, mentre i carabinieri forestali e la polizia provinciale si occupavano della rimozione della carcassa dell'ungulato e alle 9.30 il traffico è potuto riprendere regolarmente.